Nulla facente, senza un lavoro, ma in realtà possedeva beni per quasi 250.000 euro. La donna risulta non aver mai presentato dichiarazione dei redditi e non essere titolare di imprese. Dalla banca dati IMSS risulta un unico periodo di lavoro tra il 1 dicembre 2002 e il 12 dicembre 2002, con una retribuzione pari a 131 euro. I carabinieri di Torino-Oltredora hanno eseguito un decreto emesso dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Torino, che è disposto al segresto finalizzato alla confisca dei beni a carico di una noma dei sinti di 37 anni. Mesi di accertamenti hanno dimostrato come il suo tenore di vita fosse ben al di sopra delle possibilità offerte dal suo stato di indigenza. In tutta la sua vita ha dichiarato al fisco 131 euro. La nomade ha diversi precedenti e prendenze penali per furto, ricettazione, indebito, utilizzo di carte di credito e truffa. I militari hanno messo i sigilli a una villetta e tre autovetture. Grazie a tutti.